Grazie a tutti. Sassari e Nuoro, responsabile del territorio di Alghero, è la dottoressa Alessandra Lafragola, archeologa libera professionista responsabile dello scavo della necropoli di Monte Carro. Si parlerà del ritrovamento e scavo nel 2007 di una necropoli romana risalente al primo terzo secolo d.C. intatta. Circa 350 tombe scavate nel granito hanno restituito scheletri e corredi funerari di grande bellezza e importanza, sia ai fini storici ed archeologici che artistici. A parte una breve mostra di alcuni corredi subito restaurati con la pubblicazione di un fascicolo con poche note ed una relazione scientifica in un convegno di cui non sono ancora usciti gli atti, quella di venerdì prossimo sarà la prima occasione, a distanza di tanti anni, per riparlare di questa scoperta. Ed è stata prorogata la scadenza per iscriversi al concorso Alghero Verde in Fiore, organizzato dall'Associazione Corallo Verde con il patrocino del Comune di Alghero. Fino al 30 di giugno sarà possibile dunque aderire a questo progetto che ha lo scopo di abbellire quartieri e zone periferiche nella città. Il concorso Alghero Verde in Fiore, organizzato dall'Associazione regionale Floro Vivaisti Corallo Verde con la collaborazione dell'assessorato alle manutenzioni del Comune di Alghero, lascia tempo fino al 30 giugno per allestire in maniera colorata e creativa balconi, aiuole, terrazzi e giardini. L'interesse da parte della cittadinanza non manca e si è deciso di allungare la scadenza per permettere al maggior numero di persone di partecipare. Il termine della fine del mese faciliterà anche i quartieri e le borgate che potranno allestire un'area verde o una aiuola. Il Carmine e Maristella sono già a lavoro, gli altri sono in fase di valutazione. Iscriversi ad Alghero Verde in Fiore è una dichiarazione d'amore per la propria città, per il bello, per i colori, la volontà di generare una maggior sensibilizzazione all'uso e alla cura del verde, da utilizzarsi come strumento di valorizzazione degli spazi privati e pubblici. È possibile partecipare nelle categorie allestimento più creativo e allestimento più rigoglioso, che premiano rispettivamente con 500 e 1000 euro, e con la aiuola mediterranea, che privilegerà l'uso esclusivo di piante autoctone e mediterranee, nonché l'eventuale inserimento di supporti decorativi per omaggiare il verde regionale. Quest'ultima categoria, grazie al recente contributo del Parco di Porto Conte, vanterà un premio di 300 euro. Ancora tempo anche per partecipare alla menzione Condominio Fiorito, che valuterà gli allestimenti verdi negli spazi comuni dei palazzi cittadini. La segreteria di Via degli Orti 124 sarà aperta il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20, mentre quella di Via Gioberti 48 riceverà le iscrizioni lunedì e mercoledì negli stessi orari. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo associazionecoralloverde-gmail.com E si svolgerà sul lungomare Barcellona dal 22 al 30 giugno la mostra Mercato Festa di San Giovanni 2013. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Alghero, prevede l'allestimento di 45 stands destinati per il 70% ad attività artigianali e agroalimentari della Sardegna, mentre il 30% con curiosità commerciali. Saranno presenti alcuni stand ospiti del settore agroalimentare di altre regioni italiane. L'ingresso è come sempre libero dalle 17 alle 1 di notte. E anche in questa estate 2013 ritornerà il Summer Beach. L'organizzazione, nonostante manchi ancora più di un mese, annuncia anche diverse novità per la non-edizione dell'evento ludico sportivo che si svolgerà nella spiaggia di San Giovanni. Anche se mancano diversi giorni, l'organizzazione è già a lavoro per la realizzazione del nono trofeo Summer Beach, una delle poche manifestazioni a carattere ludico sportivo che resiste nel tempo e arriva alla non-edizione consecutiva. Dal 30 luglio al 18 agosto la spiaggia del Lido di San Giovanni, antistante l'hotel Il Gabbiano, ospiterà l'evento. Come ogni anno, l'organizzazione curata dalla SD Polisportiva Sottorete ha voluto fortemente introdurre delle novità, tutte improntate a carattere sempre più il Summer Beach, come evento puramente sportivo e ludico, dedicato a grandi e piccini, unico nel suo genere e che vuole diventare punto di riferimento delle stati algheresi. Tra le novità, il ritorno del circuito regionale di Beach Volley, che festeggerà il suo atto conclusivo sulla spiaggia algherese, con la tappa finale che è stata solitamente a completo appannaggio del Poetto di Cagliari. Inoltre, tra le altre novità, spiccano il Beach Tennis e il trasferimento in spiaggia delle attività delle palestre locali, che avranno a disposizione un loro spazio per effettuare le discipline atletiche sotto il sole estivo. Un'opportunità dunque per tutti quelli che desiderano passare del tempo in modo alternativo, in un sano contesto di allegria e musica, come può essere quello della spiaggia. Ovviamente non ci si poteva dimenticare del popolo notturno e festaiolo, per il quale l'organizzazione ha pensato di dedicare i quattro fine settimane in calendario al ballo e alla musica. Ed è tutto per l'edizione di oggi del Telegiornale. Vi lascio al meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.